Dopo una prima stagione ampiamente deludente ad Anfield, la carriera dell'ex fenomeno Andy Carroll sembra vicino ad andare in fumo. Nonostante siano molte le voci che vorrebbero squadre europee ed inglesi interessate all'avanti del Liverpool, solo il suo ex club, il Newcastle, si era fatto avanti per riprendere il 23enne. I McVis però avevano richiesto Carroll in prestito per un anno prima di considerarne l'acquisto a titolo definitivo. I proprietari del Liverpool hanno risposto picche. Ad aprire la trattativa, in vero non molto affollata per l'avanti, erano state le parole del nuovo tecnico Brendan Rodgers che considerava Carroll non essenziale per i suoi schemi. Per la stampa inglese sarebbero interessate West Ham e Milan, anche se da via turati è arrivata una secca smentita. Il centroavanti è arrivato nel gennaio 2011 dal Newcastle per qualcosa come 40 milioni di euro. Non è mai riuscito a integrarsi a Liverpool segnando solo 11 reti. Il primo acquisto di Rodgers, l'attaccante della Roma Fabio Borini, mi sembra indicare che la permanenza di Carroll a Enfield è vicina alla fine. Vedremo dove andrà a finire.